Negli ultimi anni sicuramente è stata elevata moltissimo l'attenzione a questo aspetto e in particolare per tutti gli impianti di condizionamento e quant'altro anche perché ormai gli ospedali sono sostanzialmente tutti chiusi e regolati cioè per garantire questa qualità soprattutto nei reparti speciali insomma anche nelle esigenze critiche e quant'altro evidentemente tutto è affidato alla corretta gestione degli impianti di condizionamento per il trattamento dell'aria quindi con le filtrazioni adatta in un qualche modo capacità di filtrazione e quant'altro ma anche in un qualche modo tutto quello che il sistema di pulizie e quindi la gestione quotidiana la regola fondamentale non alzare polveri ma anche possibilmente in un qualche modo evacuare direttamente all'esterno questo tipo di polveri che poi si formano all'interno degli ambienti pensiamo alla pulizia dei canali dell'aria che addirittura un tempo anche in cantiere non veniva curata oggi si montano tutte le componenti degli impianti aureaulici in un qualche modo tenendo protetti tutti i tronchi che si vanno a montare facendo le pulizie finale di premessa in funzione quindi c'è un'attenzione notevole da questo punto di vista ovviamente la polvere è molto importante perché può farsi il veicolo di trasmissione in un qualche modo di batteri di virus di insomma queste sostanze che abbiamo visto che rischiano di mettere pesantemente a rischio la salute delle persone e che in larga misura sono parte insieme al trattamento delle mani alla pulizia e all'igiene anche nel personale a quelle che sono le infezioni ospedaliere quindi evidentemente l'igiene e la qualità in particolare dell'aria ma anche delle pareti dei materiali delle emissioni che questi materiali possono emettere nell'ambiente oggi insomma è molto attenzionato cioè soprattutto nella seta dei materiali nella seta degli impianti la costruzione del nuovo ospedale va attentamente studiato da questo punto di vista anche perché da lì derivano poi altre caratteristiche come la sostenibilità ambientale la sicurezza e tutte quelle componenti che fanno parte delle certificazioni ad esempio lead piuttosto che di alta natura per garantire poi la certificazione finale dell'edificio a Galeazzi abbiamo previsto la certificazione lead gold col progetto siamo già stati certificati adesso in corso di monofioraggio l'esecuzione e probabilmente sarà il primo ospedale italiano importante con la certificazione di sostenibilità ambientale